Musica 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 Vieni a venire, ricordi! Giulia, giù stavate! Benvenuti! benvenuti alla 32esima festa di aprile corsa dei sommari allora come sapete mai da anni le batterie vengono divise in tre corse tre sommari che rappresentano le varie contrade per ogni batteria allora i primi di ogni batteria faranno la finale per il primo secondo e terzo posto gli altri a seguire allora vi leggo le contrade allora diamo cate il battro il raggio il spoggio